E' un'iniziativa che io ritengo molto importante, lo sport è cultura. Questa città secondo me può fare tantissimo e pensiamo di dare qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale a livello sportivo. Io nella mia carriera ho girato il mondo, ho deciso di venire a Siracusa. Per me Siracusa non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza per il futuro. Credo molto nello sport e credo molto che in questa città si possa sviluppare uno sport sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista di elite perché abbiamo ragazzi molto interessanti. Con il presidente regionale dell'AICS Lido Schiavo, Lido è chiaramente il tuo ente di promozione sempre aperto a progetti di questo tipo, sport inteso veramente a 360 gradi quindi veramente un'innovazione per il capologo Aretuseo. Sicuramente Manuel, cioè noi come tu ben sai l'AICS cerca nello sport, cerca il lato anche della cultura ma soprattutto anche il lato dell'umanesimo. Dando fiducia a questo insieme di professionalità che si sono costituiti attorno all'Accademia AICS, noi vogliamo fare una formazione sportiva a 360 gradi. Quindi vogliamo formare tecnici, vogliamo formare atleti, vogliamo formare giudici di gara, vogliamo formare dirigenti ma soprattutto ci prefiggiamo una funzione etica che è quella di educare anche la generalità e educare anche praticamente qual è l'aspetto che devono mantenere i fruitori degli sport.